Presidente Marsiglio, 25 anni dalla prima delibera del Cipe, 15 dall'ultimo accordo di programma e 5 dall'altra proposta di accordo di programma che non ha avuto alcun seguito, mai assentita dal Ministero. Cosa c'è di diverso stavolta? C'è di diverso il lavoro serio, silenzioso e costruttivo di chi ha portato a casa questi finanziamenti, oltre 300 milioni di euro che marcivano, come ha ricordato, da 25 anni nelle casse dello Stato e che l'Abruzzo non era mai riuscito a trasformare in servizi, in ospedali, in nuove strutture. Oggi abbiamo questa approvazione in conferenza Stato-Regioni, l'accordo di programma pronto da firmare, 300 milioni in arrivo sul bilancio della Regione, 3 nuovi ospedali più la centrale del 118 dell'Aquila e altri 100 che attendono di essere destinati con un successivo prossimo accordo che seguirà immediatamente, ma rispetto al quale l'Abruzzo oggi ha dimostrato allo Stato e al Governo di essere in grado di fare questo. E c'è anche un nuovo Governo che ha ascoltato e seguito con l'attenzione che merita i problemi e le richieste e i bisogni della Regione Abruzzo.